Sono stati affidati oggi i lavori per la manutenzione ordinaria degli impianti di risalita dei prati di Tivo. Potrebbe essere tardi per avviare la stazione sciistica? Eccoci qua. Dire che oggi affidiamo i lavori per la manutenzione ordinaria non è che è tardissimo. Bisognava farlo ad aprile-maggio scorso, perché pensare di gestire la montagna novembre per dicembre è qualcosa di impossibile. Dobbiamo ringraziare il buon Dio, la fortuna per chi non crede, perché in questi giorni il tempo è clemente e se mantiene così fino a Natale, fino a Capodanno, i lavori che bisogna fare sono manuali. A 1500-1800 metri dovete capire che non è semplice. Se il tempo mantiene, vengono fatti i lavori di manutenzione e possiamo riaccendere i primi impianti, la cabinovia. Quando? Noi speriamo tra Natale e Capodanno, perché adesso c'è il problema di preditivo. Qui sembra che in un mese che sono arrivato io, che sono il problema della montagna. Ecco, invece sulla montagna bisogna fare lavori semestrali. Ogni sei mesi si pensa per il semestre successivo. Qui non viene fatto, non si capisce il perché. In questo mese abbiamo cercato di fare il possibile e siamo riusciti ad affidare i lavori di manutenzione ordinaria. Partono i lavori, appena finiscono la manutenzione possiamo accendere gli impianti, perché non è che ti siedi dentro la macchina e li accendi. Lì la cabinovia porta delle persone, ha bisogno di un controllo meticoloso, di manutenzione meticolosa su quegli impianti per farla funzionare, perché trasportano uomini e donne. È normale che si parte con ritardo, ma il rischio reale era quello di non partire per nulla, perché questo è quello che mi avevano detto appena mi sono insediato. Quest'anno gli impianti rimancano chiusi, perché non c'è il tempo né materiale né il tempo lo permetterà. Sono un testardo, sto cercando nell'emergenza di risolvere un problema che è difficile, almeno recuperare il possibile. Ecco, non vorrei però che questo recupero impossibile mi determini un'azione negativa, che il problema della montagna sono io. Ecco, io sto cercando di cambiare le cose, almeno per quest'anno. Sicuramente la certezza che vi do e la speranza che do ad una comunità che oramai soffre da tanti anni, che è la comunità montana, è che faremo una cosa totalmente diversa, che a gennaio già del 2019 a febbraio ci occuperemo dei prati di Tivo e di Prato Selva già nei mesi invernali, per far sì che nel 2019 siamo già pronti.